E' mancato il colpo del K.O. perché le occasioni dopo aver trovato con quel gran gol di Icardi in 1-0 c'era più spazi, si sono viste, però lì c'è mancato forse quell'uno per far 31 e poi nel calcio può capitare il rimpallo e la situazione che favorisce gli altri. Sì, però poi nel primo tempo siamo stati un po' troppo macchinosi nel cominciare l'azione, abbiamo perso troppi palloni a metà campo, abbiamo preso troppe ripartenze a campo aperto, per cui bisogna essere obiettivi, ci vuole un equilibrio. Poi sì, è chiaro, dopo essere passati in vantaggio ci sono capitate 4-5 palle di gol per ribaltare l'azione dove non siamo riusciti a concretizzarle e di conseguenza poi ci sta che ti vada male l'episodio e che ti riesca poi a pareggiare la persona. Ti sbracciavi molto nel secondo tempo perché non capivi come mai si abbassavano troppo, avevano paura nelle uscite, cioè cos'è che ti innervosiva? Perché in alcuni momenti sembrava volessi partecipare tu all'azione in campo. Perché poi ci siamo un po' intimoriti, si tendeva a retrocedere invece di essere aggressivi, si subiva sempre questo essere puntati nello spazio, arrivando sempre in ritardo sul trasferimento della palla. Ci è mancato un po' di aggressività, un po' di impatto nelle situazioni. Quando si è riconquistata non siamo riusciti a pulirla bene, la palla, e allora poi diventa più difficile. Se ti gira male l'episodio come ci è girato, di quel rimpallo lì, poi gli è rimasta la palla e concretizza. Però bisogna andarlo ad affrontare a monte, ecco il piccolo problema. Studio per il mister. Buonasera mister, le volevo chiedere, rispetto al girone d'andata dell'anno scorso l'Inter ha fatto otto punti in più. Questa squadra può a fine campionato arrivare a farne sedici in più? E se questi sedici possono bastare per arrivare in Champions League? Non lo so, questo dipende un po' anche dagli altri, perché mi sembra che vadano forti le nostre avversarie. E meno male ne manca qualcuna, perché poi ce ne potevano essere di più in questo gruppetto di testa. È chiaro che bisogna vincere le partite, bisogna fare il massimo che sta nelle nostre potenzialità per la forza degli avversari e per quello che è poi il numero da raggiungere quando si arriva in fondo. Però, poi l'ho un pochettino detto in conferenza stampa, bisogna stare attenti, perché l'Inter sono otto anni che prende 41 gol al campionato. Sono troppi 41 gol, non si possono prendere 41 gol. Bisogna, dice, allora ci vuole un difensore. No, ci vuole una mentalità di squadra, ci vuole un carattere di andare a fare questi contrasti forti, di essere poi nelle condizioni di mantenere una forza di equilibrio di squadra, di impatto sul mezzo e mezzo. Dice, ma questo è mezzo e mezzo? No, mezzo e mezzo non c'è, c'è il 55 per noi sempre e il 45 per quegli altri, perché se no poi abbiamo degli obiettivi importanti e diventa difficile poi raggiungerli se no. Buonasera, mister. Dove bisogna crescere sull'aspetto dell'aggressività, quindi, di cui parlava prima? Sì, sicuramente sì, su quello che deve essere, non aggressività, ma su quello che deve essere questa caratteristica d'impatto sui palloni, di avere questa tigna addosso, questa non dartela mai vinta. A volte noi si arriva troppo morbidi, si perde troppi palloni troppo morbidi, si arriva morbidi su quello che deve essere il contrasto e questo non si mette a posto con più qualità o con il giocatore di qualità. Si mette a posto con l'autorità, con la personalità, con la forza, con la forza, perché se noi prendiamo 41 gol anche quest'anno non arriviamo da nessuna parte.